Alessandro Sanzolini, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile sia per gli avversari ma anche per le assenze che appunto doveva gestire ed è stato così alla fine? Beh sì, effettivamente è il peggior avversario che potevamo incontrare in questo momento, anche perché veniamo da purtroppo un lungo momento di inattività forzata, quindi noi ci siamo rivisti ieri sera, purtroppo non sto qui a discutere sulle assenze, le assenze sono state forzate, è la mancanza di allenamento e stare in palestra, quindi la sera l'abbiamo pagata un po' e ti ripeto, purtroppo abbiamo incontrato la squadra più organizzata del Girona. È stata l'occasione forzata anche in questo caso per mandare in campo tanti ragazzi giovani che hanno avuto più minutaggio, abbiamo visto anche un palleggiatore giovanissimo di casa ASP, un commento su com'è andata per loro? Marco ha fatto molto bene, ha fatto molto bene perché inizialmente tante emozioni i primi cinque minuti, però poi si lasciano andare, le ho fatto una richiesta precisa che è quella di giocare in funzione degli avversari, ma anche soprattutto per imparare, non tanto per risultato della partita, l'ha fatto bene, il primo set ha giocato molto molto bene, poi la squadra non siamo riusciti a mettere tanto ordine, quindi va da sé che anche lui ha avuto difficoltà a gestire la partita, però a carattere, a carattere è piaciuto molto, è piaciuto molto. Guardando il bicchiere mezzo pieno meglio avere assenza in partite come questa che magari negli scontri diretti per questo famoso terzo posto che vale poi l'accesso alla seconda fase? Il bicchiere mezzo vuoto, il bicchiere mezzo pieno lo vedo perché siamo riusciti a rientrare in palestra, uno, lo vogliamo ancora fortemente, riuscire a continuare ad andare fino in fondo, il bicchiere mezzo vuoto lo vedo perché purtroppo in questo momento non sappiamo veramente giorno per giorno quello che può succedere perché arrivano notizie, ecco, noi ci sentiamo il venerdì, ti dicono una cosa e il sabato poi è completamente un'altra, quindi la difficoltà per ora è questa. Viviamo settimana in settimana, riprendiamo ad allenarci e... E recuperiamo qualche giocatore? Vediamo di recuperare qualche giocatore, però i ragazzi che c'erano hanno fatto quello che purtroppo, secondo me, potevano fare in questo momento. Grazie.